Sono provata in questa nuova avventura, come diceva Loredana, Massimiliano Alto e Giulia sono stati fondamentali per noi ovviamente che non siamo doppiatori professionisti come Pino, però per me partecipare a un quarto animato ovviamente è stupendo perché per quanto riguarda il mio lavoro io è come un po' interpretassi dei cartoni animati nella mia testa, adesso non glielo dite a Lavanoni, però nel senso, no comunque quando faccio dei personaggi, quando li interpreto li vivo come fossero un po' sopra le righe, insomma dei un po' più brutteschi di quello che sono nella realtà, quindi il cartone è così. I cartoni animati di oggi sono fantastici perché sono per grandi e piccoli veramente, hanno delle citazioni ironiche che ovviamente capiscono più i grandi dei bambini, la genialità di mettere mano che è feticista e guarda i piedi sul computer, secondo me è il punto massimo di ironia. Quello che dice anche appunto che ha detto già Loredana è molto bello questo messaggio che non è retorico ed è originale, posto in modo originale quanto la famiglia Adams, che è l'essere differenti, è la cosa più rock che ci possa essere ed è quello il messaggio forte secondo me, a parte il bullismo che comunque è un tema molto importante, è cambiare il punto di vista che a volte le cose più brutte o più strane ci fanno paura, invece basta conoscerle per poi prendere confidenza. Quindi anche io ringrazio tutti quelli che hanno pensato a me, anche chi mi ha votato da casa e poi detto il resto è proia, volevo dire che non riuscivo ma l'ho detto adesso.